C'è un esperto molto molto preparato che ha le chiavi del successo che può farlo un figato in ogni caso C'è un esperto molto molto preparato che ha le chiavi del successo che può farlo un figato Sei riuscito a mantenere il proposito di non masturbarti per 12 giorni? Invia una mail a resisterechiocciolaresistere.au Tra i partecipanti verrà estratto un kit per la falegnameria domestica C'è crisi, cri-crisi Siamo tutti divisi Siamo volti imprecisi Di tempi confusi C'è crisi, we are crazy Siamo liquidi e nudi Non si anche macerie di sogni sontuosi C'è crisi, we are crazy Postmodernità Il nostro divano cinghio di ottila C'è crisi, we are crazy Con comodità La speranza è l'ultima a morire Ci vuol perone E' un divinato Un passo avanti E noi si fanno indietro Nella frittura Con com'ero Per sapere A chi inviare una mail E conoscere l'indirizzo mail Di chi potrà darvi l'informazione richiesta Inviate una mail a Info Chiocciola A chi devo inviare la mail Punto a chi Per conoscere il numero verde Attraverso il quale parlare Con un nostro operatore Inviate una mail a Info Chiocciola A chi devo telefonare Punto Nero, bianco, nero Nero, bianco, nero Nero, bianco, nero Bianco, bianco Nero, nero, nero Tutto si spande A grande velocità La terra schingiola Il polo schingiola A tutta birra C'è un'uscita per ridurre E vediamo che è successo E' un po' fatti Complicato Vai da Vai da Vai da Vai da Vai da Moralisti Senza amore Penalisti Senza pene Mafiosi Senza muffin Maschilisti Senza skilift Nichilisti Senza nicchia Marxisti Senza mars Stagisti Senza agi Estremisti Senza estremi Giornalisti Senza giorni Prostitute Senza prust Carpentieri Senza diem Cristiani Senza christian Unico santo Idolatrato Credo nel Meritus E nel curriculum Credo nell'habitus Che indossa il monacus Credo nel Meritus Credo nell'habitus Ed è il curriculum Che fa un uomo monacus Unisca i numeri in modo progressivo Comparerà l'immagine virtuale per accedere alla sezione Desidero accedere alla sezione Punto desidero Disponga la sua immagine virtuale davanti alla webcam Facendo attenzione al parallasse terrestre e allo spostamento del polo magnetico Sul desk stop Comparirà la scritta Carpoli Punto cart Clicchi due volte sulla scritta Si risponga carpoli davanti al suo pc Facendo attenzione a un'uscita visuale nella sua webcam Si infili il dito nel lungo Un dito nel culo Un dito nel culo E con campanellamenti accenni All'inizio della barca Di un po' ridere E con campanellamenti accenni